E mi piace se lo muovi quel culo bianco La ricacia è popolare di sopra una lampa E ho bisogno di te Volevo solo te, te, te E adesso è finita che tu non ha lissi Nella bella vita di soldi sui Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione Da vedere In punto di morte Sono a casa in fratelli Gli altri escono tutti insieme E con poca assinazione Che presto cambia la mia salute Cerperò Cerperò Marramichi Sì, scelte, pe, e urla Rana, rana, rana Cerperò Ba-ba-ba-ba-ba Dutupi vuole estinguersi Tre teste per un Cerperu Cerperò Ba-ba-ba-ba-ba-ba Troppi goblin in questo mondo Troppi goblin in questo mondo Non sarò un cloche Né tanto me non devi Né tanto me non devi Perché ogni giorno Guarda Rana, 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 rana Rana, rana, rana Pagami Ilisce C'è Fai Rana, 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 rana ecco falverio nella sua attività preferita ma pezzente ma lo vedi che ce l'ha due capelli in testa se no che stava a tagliasso ragazzi una bella spazzerata e che li porto tutti da una parte alla forza chiama come ti senti? pettinato a Lorenzo Maria Talani servo dei vaticani tu mi devi spiegare una cosa con tutto il rispetto per l'attività dell'artigiano che sta simulando di pettinarti quello che non hai ma che ti sei andato a spendere a fare questi i sordi? ma come te lamenti sempre che non ti tornano i conti? cioè tu hai fatto come se io andassi dentro un centro di eteridi cos'è i vaffanculo che prenderei? cioè tu vai dal barbiere senza la materia prima o vuoi dire che sei Gerard e il camaleonte? vuoi dire che sei un truffatore e rientri nel penale? ma fate i cazzi tu comunque molto compro un parrucchino per la festa di epifania per la festa di guapela bello vero? perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe essere cosa ti sei? cosa ti sei? cosa ti sei? ZA ANNI COTTA ZA ANNI ZA ANNI Solo il loro sciardo non me la sento MA CHE STAFFA Ricordate che i squali STANI ARRIVAAA ZA ANNI ZA ANNI ZA ANNI COTTA COTTA ZA ANNI COTTA COTTA ZA ANNI ZA ANNI Voglio la cotta ZA ANNI Voglio la cotta Datemi un po' di cotta 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 Closhards E benvenuti In questa nuova cotta Esatto Ma hai posto spogliato Ma hai posto armino levar giubbottino Che sono appena arrivato Scusate Quanto vi trovate messo Mi chiedo scusa Ormai è diventato YouTube Pupo Ne manco più una cosa Sembrava che eri arrivato Ma le luci ci hanno messo una cifra A parcheggiastere Ciao ragazzi Loner 89 Anche io ti voglio bene Ma sprediamo un po' di amore Quest'occhi Dai ragazzi Un po' di love per tutti Love 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 Hanno mandato un pisellone Questa è complicata Prendere il tempo giusto Perché poi ci sta Tarada Tarada Ah ma questa pure è Gianluca Sprediamo un po' di love Un po' di love Gianluca Un po' di love Sì sì Il mondo è bello Io ormai Prima di ogni live cago Ma anche per non andare a cagare Durante la live A parte che è uno stimolo Che mi viene naturale Sai che mi stava ricordando Quando Mentre stavo cagando Che mi capitava sempre Sai quando Quando andavo a teatro Quando facevo teatro Quando ero piccolino Mi ricordo che ogni volta Prima di salire sul palco Dovevo cagare Potresti considerarla Una power routine È tornata Una routine Che ti Che ti Incrementa Il tuo La tua produttività Ma no Non è l'ansietta Si ripetisce Per non le cagate sotto Non è l'ansietta Una cosa Fisiologica Un po' che ne so Come quando rientri a casa Sai che ti devi far caffè Nel senso Però quella là È una cosa Che espelli la merda Quella là invece È una cosa Che ti prepari Che ingirisci Però è proprio Quel meccanismo Che sembra Che deve accadere Perché è scritto Che deve accadere E diventa parte Della routine Non so Non so se pure voi Avete la vostra cagata di rito Si assolutamente Ogni giorno Allo stesso momento E se non lo faccio Mi sento male Proprio Ma lui è pre live E lui è pre live Gli capita pre live Allora facciamo una cosa Da settimana prossima Che sarebbero ufficialmente Alle 15 e 15 Alle 21 e 15 Ciò può stare Così asseguriamo 15 minuti dopo Per le mie cagatine Ora è 0-9 0-9 Ciò può stare E 10 Allora Orario ufficial Diciamo Ha 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 Di celle Che ride Capito Ma Ma dove è nato Non sono state Le nostre No non l'ho chiuso Mi sono scordato Marco ci ha detto Che praticamente È stato costretto A uccidere un bambino Qua fuori Perché tentava di entrare Lui L'ha decapitato Vabbè ha fatto bene È un horror Io penso di farne Minimo 3-4 al giorno De cagate Minimo Ma io ultimamente Sto a una Una quota così Poi dipende Quanto mangio il giorno prima Se bevo alcolici Se bevo Tanta coca cola Che ne so Tu fai Diciamo La prima cagata Della giornata Quando mi sveglio Immediatamente Ma non ti senti svuotato No 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 Allora Quando mi sveglio Lì faccio magari O la doppia O la tripla A distanza di tot minuti Che variano tra loro Tipo te faccio un esempio Ah quindi fai tutte e tre subito Sono andato a una cena Dove proprio hai mischiato Che stai già con l'acidino Quando ritorni a casa Mi sveglio La mattina Che o la faccio Proprio tutta 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 Oppure al massimo Dopo 5-10 minuti Devo andare a fare Altra E poi altra ancora Sempre un piacere 21 maggio Perché tanta gente Mangia in concomitanza Con il cervello Così si aiuta No Sì ma beh Guarda Io sarò uscito Ma se ho rientrato Il discorso Ancora vedo È rimasto lì Ti fai un po' Gli anticorpi Cioè se riesci a mangiare Con questi discorsi Puoi mangiare Con qualsiasi cosa No per me non c'è poco problema Io potrei mangiare Pure con uno Che caga davanti a me Eh ma infatti Se ho fame Sfida a fare una cosa A mangiare Un intero pasto Mentre te guardi In loop Il tiktok Del pomata Dove sbratta A capodanno Simone ha avuto L'onore di vedere Stà su tiktok Però non lo metteremo Cioè penso che L'ha messo lui su tiktok Sì ma gli è nato tipo Virale Gli ha fatto un botto E te chiamolo bene Er pomata Perché non l'ho visto Er pomata ha messo Su tiktok A capodanno Sì Un video A mezzanotte e un quarto Tipo Un video di lui Che sbratta Proprio A fiumi Non è che c'ha vacanze Il primo dell'anno Cioè dopo Un quarto d'ora Che è stata fatta Generate Come si chiama L'incoronarchia Ma come si chiama Che cosa Non ho capito Che Quando festeggi Non mi vengono le parole Oggi Un augurio L'augurio No se volessi dire Al femminile L'augurio La celebrazione La celebrazione Il capodanno Grazie Marco Il capodanno Subito può stare un tiktok Come a Ferragni Secondo me sì E quando Er pomata Mi ha fatto vedere Questo tiktok Ieri sera Sì sì Perché pure L'ho dovuto pure un po' Convincere che non voleva Sì inizialmente voleva Che io l'ho messo in mezzo Perché a me mi ha fatto vedere fiero Ma perché con me c'ha confidenza Poi ho visto che non voleva Ma c'aveva tipo 80k visualizzazioni Poi si è capitato algoritmicamente Sì sì Poi quindi me l'ha fatto vedere E era proprio E io Tra audio e video Fa schifo tu Posso dire C'ho un gusto dell'orrido Abbastanza sviluppato Cioè mi guardo le peggio cose Mi mangio le peggio cose Cioè è difficile disgustarmi Però sarà che magari Sarà che magari Er pomata Che lo conosci Stava accanto a me Che lo conosco Ho empatizzato proprio E mi è venuto pure a me un po' Il Un po' mi è venuto Cioè io che sono resistente Non stavo ne manca mangiare Se sei Senti proprio Che lui tiene il telefono Credo tipo qua E sbratta no Quindi tu senti proprio I rantoli Proprio ASMR Sì tipo quelli La corpo Con un po' Proprio Senti quello fatto Scientemente proprio Sì 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 Prossimo step 600 euro dei microfoni Quelli a clip Che si compra Quelli che fanno i tiktok Secondo me non è Non l'ha fatto Cioè come i migliori Diciamo inventori Ah no ok Il microfono E poi lo rivomita Ha inventato un genere Inconsapevolmente Capito Comunque ha detto Cosa bellissima Marco Ingoiarsi un microfono Per rivomitarlo E sentire tutto La smr Sarebbe bellissimo Un micro Anzi un action cam Così vedi e senti Non vorrei Dovrebbero creare Una microscope Molto piccola Uno sbratto pov Che la metti Tipo in una pillola Che ingoi 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 la pillola E riprende tutto Magari a 360 Una piccola sfera Videocamera E tutto in 4k 60fps Esatto È come quando Ti fanno Però quello è scomodo È un tubo Tutto lungo Su per il culo Là non è Non è una bella esperienza Vedi come si rinnova Alla fine la medicina Con delle idee geniali Alla fine rivoluzioneremo Faremo una scoperta scientifica In ambito medico Poi Secondo me Pomata Erpomata Ha fatto una scoperta Scientifica Nel mondo dell'intrattenimento Con quel video Cioè che appunto Ha scoperto La SM Il vomita SM Lui ad oggi È proprio In maniera inequivocabile Uno dei più grandi Un trendsetter Più grandi sicuramente No Senza Ecco vabbè Il body shaming Simone Santoro Io ti dico A livello Di concettuale Di intrattenimento Sul web Sul fatto Quello del pugilato Il coso Il poeta di stagione Quello Qual è il tuo giudizio Cioè Non si è arrivato Non ho appena detto No non l'hai detto No nel senso Allora Hai fatto tutto un preambolo E poi Allora Semplicemente Io ho visto il poeta L'ho visto Vari volte Sia al lupo Sia a qua Anche considerando il fatto Seguendo anche i social E tutte le cose Abbiamo anche fatto Live con lui Dove abbiamo detto Un sacco di cose Il fatto di sbrattare Capodanno Tutte le cose Non mi sembra Non mi sembra Io sto totalmente Con Oh no Sono approfittati Si approfitta Della pennetta Del bubolo Perché hai fumato L'ha fumato Cui lo sa Perché abbiamo così Tante volte Ma hai questa situazione Con i vari amici Ma dai un po' Le pennette a Dave Sono vedi Poi pure oggi Ai 15 Ho fatto il prezioso Non ti voglio attaccare No 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 Per carità Io già lo sono ripreso Sono un fiore Guarda Che stavo parlando Prima della live Sono ritornato Un fiorellino Comunque Non ho nulla Era per dire Che sono le 21 Uno ha vissuto Fino a questo Comunque Per tornare Allo sbratto Cioè sbratto E sbratto Per esempio Quello là Che abbiamo citato Del pomada Fa schifo Perché rappresenta Lo sbratto distruttivo Della persona Che sta male Tira fuori l'impossibile Tira fuori tutto Assolutamente Fino a svuotarsi Poi c'è Lo sbratto Di David John Rubino De qualche anno fa Che quello fa ride Quello squirtle Perché lancia Tipo un gettino Fino e lunghissimo E fa tipo E stava tutto così Sembrava un po' Uno squirtle Cioè quello fa ride Allora attenzione Pure tutta la chat State boni Muto Muto State boni Seduti Bravi Forse ci danno Il permesso Di far vedere Il tiktok D'er pomada Che sbratta Ah però chiedete a lui Dai Eh ma sta su tiktok Lui l'ha messo su tiktok Vabbè però magari Vogliava che seguite qua Dai Chiede al governo popolare cinese Se ci danno il permesso Vediamo Non mette Marco Che tocca a fare login qua Ora chiederò Al governo centrale cinese Come ha detto Marco Vitano C'è il contatto diretto Via PEC Eh no Il contatto via codice QR Per accedere Ah ok Direttamente alla Cina Ti consente alla Cina Ecco vedi Hanno scannerizzato Dalla Cina Il QR Che mi permetterà Di vedere Il tiktok Ma è che ci bannano Perché il vomito Non è possibile Vederlo su Twitch Italia Tocca vedere Se Controlla un attimo Controlla un attimo Se al quartier generale Di Twitch Ci danno il permesso Ma facciamo un check veloce Giusto Stai con Vince Al telefono Grande No Assolutamente no Assolutamente no Comunque grazie Per la Per la front page E Allora Argomento pomata Quello di cui parlavamo Anche oggi È visibile Che cazzo vuol dire Scusa No Senza cazzo Scusami Un minimo Ti spetta Ma certo Vai Vince Sì Dice solo perché Dice solo perché Si tratta del pomata Ah Noi non ci prendiamo Atteggiamenti di favore No vabbè O lei proprio Ok Fino a Catanzaro Vabbè No 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 che schifo Levate Lo ha fatto veramente Asperattato veramente Ascoltiamo solo l'audio Scusate Solo l'audio Non so perché è partito reaction Quello è un errore Scusate Un errore mio Me ne assumo la completa responsabilità Però L'audio L'audio secondo me è merito Che si sente Marco Pure in totale E ora lo mandi in play Ah ok Ma quanta roba è Sta a spaccare pomata sui social Dai Questo Questo lo devi da mettere Sta a vincere il social gamer pomata Ma palesemente Mi dici tu Quando è l'ultima volta che hai fatto 80k con tiktok Mai Mai toccati Ciao Ciao A caro amico Ciao No no Simo Va No A botola No Chiudi a botola Sotto il pavimento Eh c'hai ragione Manco io ho mai fatti Quindi Ciao Ho soddisfazioni Posso mettere Ora sì Sono molto soddisfatto Di questa intro Di questa live Ma che cosa abbiamo qui Ti voglio far vedere Una cosa che ho scoperto oggi Mi fa troppo ridere Guarda il re dei vichinghi là Ok Ho scoperto questo canale Dall'anteprima Io pensavo fosse Kratos The God of War Io sono mia L'ho visto io Ora passiamo ai link Che abbiamo qui Dinanzi a noi In questo browser Qui abbiamo il re dei vichinghi Tu Dave ce l'hai linkato Perché tu lo puoi scopare Cioè non vedo altre spiegazioni Sì Sì Ma sono rimasto male Perché scrivendo Al proprietario del canale Non era lui Ed era No freebooter Storie realistiche Ok Allora questo è un canale Ne ho visti diversi così È un canale contenitore Mette immagini di roba Che sta andando a virale A livello di Di cose che fanno Che sono sensazionali al momento E c'è sotto una voce Registrata con l'intelligenza artificiale Che narra esattamente Quello che Che sta succedendo Che cosa Ecco adesso si sta buttando Guardate quello Quello del vichingo Io ho visto l'originale È l'evoluzione Di alcuni Che facevano le reaction Tipo nel 2018 19 Mi ricordo Tutti i contenuti È interessante Perché il freebooter Si unisce All'intelligenza artificiale Trova il modo Per farli Una marea Una marea Di visualizzazioni Ti commenti Gente che commenta Ah È divertente questo video Ma non ti rendi conto Che te stanno a pia per culo Che te stanno a mungere Come una mucca È vero È vero E ci sono anche Un sacco di corsi Per imparare A produrre in massa A questo tipo Di contenuti Bravo Lo stavo per dire E lo chiamano Rendite passive È un'altra di quelle robe Ti puoi fare i soldi Ve l'avevo pure fatta vedere Sta roba Ve l'avevo pure fatta vedere Sta roba Che c'era un tizio Che insegnava Come fa Centomila iscritti Rapidi su Youtube In pratica Te diceva Deve fa sta roba qua E comunque Trova anche persone Che ti possono dare una mano Tipo uno che C'è doppia sopra veloce Uno che te fa Un montaggio Diretto Anzi questa cosa È ancora più Pira Perché immagino Si è giostrata Da un solo individuo Credo Ma devi sentire Quello che dice Mi fa tagliare Cosa hanno voluto creare Con questo video Guarda quanto è specifico C'erano le sigle Dei cartoni animati Tipo anni 80 Che tipo Gli mandavano La prima puntata E quelli guardano Delle immagini Oppure guardano Soltanto le immagini Della sigla C'erano scrivere una canzone Tipo Ricordi Tasmania Sei cameriere In un hotel No Non fa il cameriere In un hotel Tasmania Per Dio Non l'ha mai fatto Tanto in una scena Della sigla Del cartone Sei cameriere In uno No Si si è vero Non lavora lì Ci sono anche Degli errori palesi Nella prima sigla Di Dragon Ball E tipo Che loro pensavano Che il protagonista Si chiamasse Dragon Ball Quando hanno fatto La prima sigla Esatto What's my destiny Dragon Ball Io so che tu lo sai Dragon Ball Perché pensavano Che il protagonista Era un drago Perché non c'è Un drago Che sia grande come te Era ancora un cartone Generico Non famoso Ovviamente Ma io pensavo Che era metaforico No 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 La prima sigla Era l'Italia ignorante Che gli arriva Un anime Ovviamente ancora sconosciuto Che pensavano Che era un drago Che si è una drago Pensavo che fosse Dragon Ma poi quello è The Z però C'era prima Dragon Ball Quello normale Cioè nel senso Z è venuto Nel senso È un'ignoranza loro Suprema No Perché No no Non è sigla Chi sei Coco Non lo sai De Dragon Ball Z Infatti non so di la Z State buono Non so di quella prima Quella prima Non stavo cantando quella Z Chi sei Coco Non lo sai No è Chi sei Non lo sai Prima di Z Che c'è Juan piccolo qua Stavo cantando l'altra La prima Quella che fa Forse sbaglio io Combatti per trovare il drago Dragon Ball No Quella è Chi sei L'Ocuno Quella è Narta Due canzoni diverse Oddio Sto messi a fan testa Che cazzo Che cazzo Stai cantando la Z Simone Pure in chat Ma mettiamo Scusami Metti quella del primo Dragon Ball Non me la ricordo Quella del primissimo Dragon Ball Troppa classe Quella del Z Che cazzo è Chi sei Coco Non lo sai Però Io invece stavo cantando Combatti per trovare il drago È la stessa No Gianluca È vero E la smetti di dire questa stupidaggine Ti prego Andiamo avanti Una è Combatti per trovare il drago Dragon Ball Il drago delle sette sfere Dragon Ball Esatto Che Zedda questa No Questo è quello originale Goku bambino Zedda invece Il ritornello di Zedda Una nuova Sei il tuo passato Dragon Ball What is my destiny Dragon Ball È la stessa No Combatti per trovare il drago Dragon Ball È la stessa Dragon Ball Respring through the glass Senti bocchiamo Giorgio Vanni Dico Stronzo Dice No 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 Ok abbiamo capito Una è what is my destiny E l'altra è combatti per trovare Il muo De muo Non bagna La senti parco Dio Guardiamoci sta cazzata Il vichingo Il vichingo Muscolare Questo è Ken Stevens Ed è un vichingo Ma sei catapulta Tra l'altro sta cosa è fighissima Ma a parte che i vichinghi Non può essere un vichingo È un vichingo Vabbè guarda quello che dice No Ho questo problema con di stoppare i video I suoi video stanno diventando virali Su Instagram e TikTok È un gigante proveniente dalla Norvegia E fa di tutto Si avventura in luoghi pericolosi In condizioni di freddo estremo Facendo tuffi mortali persino Con delle asce in mano Ma la parte migliore È quando esegue un perfetto tuffo mortale Attraverso questo buco Questo buco Cioè quello che sta succedendo in quel momento Un buco La parte migliore Tutta la sua carriera È quando si lancia in questo buco Che neanche è un buco Capito È tipo una piscina Naturale C'hai ragione Non mi è sciampato Ma poi dai panza Lui si è tuffo Tra l'altro lui si chiama Qualcosa Stevens E alla fine dice Iscriviti se vuoi conoscere Altre vichinghi Come Steven Il suo nome ti è dato Steven E poi se vai sul suo canale Non parla dei vichinghi Se ti scrivi Conoscerei gli altri vichinghi Gli amici di Steven Neanche lui lo è E se che pare Di cazzate Sembra Braun Strowman C'è una persona che sta morendo La vita è così breve Non lo vedrò Guardalo È di cattivo gusto Vabbè è di cattivo gusto È di cattivo gusto Ovviamente questo qua Sta a sfruttare Questa storia In un modo così pigro Che neanche riesce A far parlare bene Una voce Che dovrebbe parlare Di quella storia Che andrebbe rispettata Al limite Se la sfrutti È una cosa di poca importanza Che manco ha corretto Gli anelli Capito? Sì sì È proprio una Una cosa veramente pigra Lo guendo ormai Le infermiere erano commossi Sì è vero Le infermiere commossi Che schifo Madonna E guarda quanto c'ha Vediamone qualcun altro C'ha palicchi scritti Una volta sembrava una cosa assurda Lo guendo Adesso proprio Ragazzi stavo Pure questo In ospedale Poi c'ha 300k visualizzazioni Giorni prima di Natale Questa insegnante di matematica Scopre di essere compatibile Con uno sconosciuto E dona il suo rene Per salvarne la vita E questo è il momento In cui entra nella sua stanza Per incontrarlo Per la prima volta Dopo l'intervento riuscito L'unico desiderio natalizio Del piccolo figlio Era che suo padre Trovasse un donatore di rene E lei Gli ha regalato Il dono più grande di tutti Si può vedere dal suo volto Quanto fosse grato Per avergli salvato la vita Quindi questo è un vichingo Amico di Steven Io mi sono iscritto per quello Chiaro Chiaro Classico canale Ovviamente lui Cioè lui è il proprietario Del canale Chiaramente Sì sì E lui è un dono di Cristo Quindi non facciamolo arrabbiare E lui E lui sicuramente Altrimenti ci sbaciucchia tutti E lui che parla Vedi commento Fatti accaduti realmente nel mondo Eh sì Vittor Leo Un nome reale Mi fa ridere storie Storie realistiche Neanche reali È realistico Capito? Nel verosimile Realistico Vabbè E siamo rimasti anche noi Vittima di un canale simile Vero Sembra un po' Paul Walker Te l'ho avanzato io Sto andando un po' a caso Dimmi tu Dimmi tu Ma vai c'è sta questo Cerbero Podcast qui Ah Hanno fatto un po' la stessa cosa Le voci di Twitch Italia No Un video uscito 11 giorni fa Quindi molto Molto attuale Ma pure le foto Pure le foto sono attuali Tu già quando vedi un'anteprima Fatta così Giallù Già capisci tante cose No Minchia Allora quella maschera Non è neanche della quarantena Perché io in quarantena Mi sono portato Quella bianca e nera E basta Solo quella volevo Ho iniziato con grande cura Quindi in realtà Quella maschera Non la indosso credo Da 4-5 anni Basta con sta tosse Eh ho capito Se cazzo ho cavato Cazzo volete ASMR Nel vasto panorama Dello streaming italiano Pochi gruppi No aspetta Che cazzo è sta roba Nel vasto panorama Dello streaming italiano Pochi gruppi Hanno saputo catturare L'attenzione E conquistare I cuori dei fan Con la stessa intensità E versatilità Del Cerbero Podcast Un bel bocchino Vabbè A prezzo ogni tanto ci può stare La versatilità A voi A voi Sono d'accordo È proprio De dieci anni fa Non è che Cioè hanno usato proprio Quello blando Sì è un po' antico Vecchio Quello vecchio Sì è quello che già C'è da anni C'è da anni Maria Di Renzo Se me le torti attacca qualcosa Si ringrazia e basta Per te che sei infogliata E te lo hai scopato Sì magari Per me Nutro una grande simpatia Però ancora insomma Scambiare dei fluidi corporei Che non siano magari Bene dallo stesso bicchiere Insomma non vado oltre quello Peccato però peccato Magari non sai che te perdi In giorno Mosco però Tanto si va sempre a finire così Dici non lo farò mai E poi Maria Maria Tanto non è che sei Maria Vedi voi ride Vedi voi ride Vedi voi ride Vedi Maria Ride Dicono che è timida Allora Riassumevano con sta voce qua E cose che succedevano Su canale 5 Sì le cazzate proprio Che io ricordo Cercavo per faccire tipo La reaction E trovavo tipo Che mi servivano delle immagini E trovavo i screen Con sta voce del cazzo Proprio da Ascolta parrucchieri Spesso era Maria De Filippi Ha fatto Era sempre lei Ed ecco entrare Tina Cipollari Esatto Perché Tina Cipollari E' uscita dallo studio Indignato E' detto sardo E perché non ne pallate Anche quello è sardo Ancora I video ragazzi Assurdo Magari sul Grande Fratello Succede una cosa Cerchi il video Su Youtube Li te cancellano Quelli Proprio del video Del Grande Fratello Dell'accaduto Quindi rimangono Soltanto Una quindicina Dei video Fatti da sta gente Con uno screen E' successa questa cosa Che cazzo Mo dice a parte Lo so che è successa Voglio vedere video Ah non era Bianca e nera Era quella grigia La maschera Gianni Sperti Dopo anni Con Paola Barale Si è stufato Della sorca E quindi Adesso in papà Andiamo Stavo pensando Siamo melting pot Di personalità Questo è vero Se parla di questo Dovremmo commentare Quello che dice Presumo O lo vediamo e basta Non lo so Sì Sì o no Così Quando c'è via Un po' e un po' Ti potremmo di greve Ogni tanto Quello ci sta Pure za anni A caso funziona Sto periodo Complimenti Complimenti è già Bello stagionato Vabbè però I complimenti Vanno sempre Quindi quando so parole Che so strausate Secondo me Sono immortali Che bella sta cosa Greve pure in altro Che è mortale Che ci sarà sempre qualcosa Dove di greve Come ci sarà sempre qualcosa Di complimenti Come ci sarà sempre qualcosa Di anni Ma sono anche immortali Aspetta un attimo Perché io nella vita Mi ritrovo a dire greve Ma se tipo Sto a parlare con persone Non è che gli faccio Za anni Per un pazzo Quello non l'ho mai fatto Solo qui lo posso dire Perché facciamo i personaggi Complimenti Però io lo faccio Perché non ne parlate Io ne so Quando è un appuntamento Con una ragazza Perché non ne parlate Za anni Oppure cotta E mi aspetto che rida No Fa ridere solo qui dentro Ma ti posso assicurare Che io cotta L'ho fatto un botto Io cotta L'ho fatto pure In spazi pieni di gente Messa in certe Certe cose Ha fatto ride Ma tipo ieri Hai visto pure ieri Come dicevo Quando era sparito Bruno Che faceva la battuta Za anni Ma non è che vai A parlare alla cassiera Gli fai cotta Potrei 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 riuscirci Se capita l'occasione Bene Potrei riuscirci Ok dai Ti sfido E' capitato pure Ti fa un sacco di volte Complimenti IRL al suo al mercato Lunedì Vai Za anni no però Fatelo qualcuno di voi Se fa così ridere Se fa così ridere Andate da vostra nonna E fatele cotta Ma secondo me Può far ridere Scusate Può far ridere Sì sì E conoscenze diverse Ha trasformato Le loro dirette su Twitch In un vivace salotto Di discussione Dove maturità e ironia Convivono in armonia I quattro protagonisti Di questo podcast Che hanno dato vita I quattro protagonisti E' qua Che è rimasta la caverna Ha tagliato 11 giorni fa Però Ha voluto prendere Ha congelato nel tempo Quel momento Sì poi Ha preso un'immagine Di un cerbero atipico A caso Quattro In me ci sono Prima E' che è Za anni Che non c'è più E' vero Non ci sto io L'ha detto La Grasse risate Dove che guarda in camera Deva Za anni Scusa Marco Ma comunque In caverna Erano tanti anni Za anni C'è il vero podcast Fine 2023 Be like Simone Santoro Mr. Flame E Davide Rubino Davide Rubino Ma l'ha detto E non ti ricorda niente Ma l'ha detto Mr. Marra Simone Santoro Mr. Flame E Davide Rubino Oddio pensavo Che aveva confuso Davide con Rubino A me l'aveva già Anticipata E mi ricordo Che c'era un articolo Eh ma quello Infatti Eh questo Il 2019 Che era scritto Proprio così E secondo me Te lo ricordi Copiato e incollato Sì se lo ricordi Che c'era Sto articolo Con queste parole esatte C'era scritto Davide Rubino Che Rubino Si irritò Ti ricordi Sì Mi cercano di ricordarmi Di che era St'articolo Era su di noi Ed era Questo qua Ma era periodo Caverna proprio Eh di che testata Eh non mi ricordo O era tipo Tuberfan Quando ancora esisteva Era una cosa De quattro Tuberfan C'erano tutte Le varie robe De youtube Era Tuberfan Che non aggiornavano più C'era la bio De qualsiasi creator Provavano a inserire Diciamo E c'era sempre la bio Per chi lo cercava Su google Così magari Ma come ho avuto in mente Una persona Undici giorni fa Di andare Di prendere Quel sito Tuberfan E strapolare Questa scritta Adesso lo metto Un'intelligenza artificiale Che lo faccio dire Al text to speech E ci voglio fare un video Per copiare Quelli che lo fanno Anche per sperare Che fa Do speech Ok vabbè Lo stiamo ritattando qua Grande successo Carino Ma sentiamo cosa dice Stiamo ancora All'inizio Finora tutti pompini Quindi fa piacere Ci sta Ci sta Non mediatico Nel lontano 2018 Sono Davide Marra Simone Santoro Mister Flame E Davide Rubino Ognuno porta Il proprio bagaglio unico Contribuendo a plasmare Un'esperienza di streaming Unica nel suo genere Davide Marra Noto anche come Mister Marra È un personal trainer Con una passione Personal trainer Personal trainer È un personal Comunque si è vecchio Perché Sembra sia Fermo alla caverna Insomma A livello Temporale Vienza di streaming Unica nel suo Trainer Con una passione Smisurata per il cinema Nel 2017 Ha avviato La sua carriera Su YouTube Dedicandosi a monografie Su registi E attori E recensioni Cinematografiche La sua attrazione Per le arti In generale Dalla musica Al disegno Alla pittura È evidente Il suo interesse Lo ha portato anche A esplorare La cinematografia Per adulti Sotto lo pseudonimo Di Mister Casanova Esplorare la cinematografia Per adulti Ti intobberassi Mi piace che ci mette Queste immagini Che è la Tipo Quarta live Queste immagini Sì Una delle primissime Alex Mucci Ha annunciato L'arrivo imminente Di un figlio Imminente Di un figlio Un dici giorni fa Sì Appunto È fermo Valle medie No ma c'è il secondo Ah no Dovevamo Che proprio Undici giorni fa È stato concepito E appena hanno fatto il disco È appena cito L'audio Perché guarda C'è la ora spirale Su sto canale Sempre le cose Ma quindi ci sta dicendo Delle cose che non sappiamo Del futuro Guarda c'è sto io Che sono più vecchio Da adesso Ma tu non ci sei più Tra l'altro Nella formazione del sciopero Esattamente come me Però c'è una foto De me fra cinque anni Se torni indietro Sei più vecchio Da adesso Se sei invecchiato così tanto E' stato buttato fuori Sei più vecchio adesso Non lo so Ma non è vero Ma sei identico Sei più vecchio adesso Di cinque anni Ma sei identico È bello l'autoconvinzione Ok È sta webcam Mi pare più vecchio Ma pure nella realtà Non so se sei identico È identico Però là c'è un sorriso Più genuino Che ha perso col tempo Perché è la disillusione Della vita Lì c'è però podcast Ti piaceva ancora Cinque anni dopo che V'ho conosciuto L'avevo appena conosciuto Te stiamo ancora simpatici È vero Io sempre uguale invece Mazzano Tu stai Ah sì O là dietro Giusto Gianluca sta qua Io sto là Sì sì Tanta bella gente Davide Rubino Radio Boom Sa quello di Casa Pound Era Radio Boom Non ci credete La cinematografia per adulti Sotto lo pseudonimo Di Mister Casanova Di recente Insieme alla compagna Alex Mucci Ha annunciato L'arrivo imminente Di un figlio Mantenendo ancora segreto Il sesso del nascituro La sua tranquilla compostezza E il bagaglio culturale Fanno di lui Un pilastro fondamentale Del gruppo Simone Noto come YouTube Fa cagare Ha debuttato sul web Nel 2016 Con il suo canale È stato uno dei precursori Della critica su YouTube Guadagnandosi Una rapida popolarità Nonostante la sua identità Fosse inizialmente sconosciuta Credibile Cotta Cotta Si dobbiamo Dire ogni tanto Za anni Complimenti Bravo Greve Lo ha portato a essere Il frontman Dei Futurio Un gruppo musicale Nato in collaborazione Con amici Simone Di Maria De Filippi Ma come con amici Anche io da lì Si 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 Eh purtroppo Amici di Maria De Filippi Ma hanno sgamato Si si Mi piace che dicevano Spontaneità Anche ai tempi Questa cosa Mi fa piacere È spontaneo Completano il quartetto Del Cerbero Podcast Poi va Aggruppato Mr. Flame E David Rubino Completo Gianni e Pinotto Stanley Olio Perché Mr. Flame E Rubino Porco Dio Dai Assurdo Anche l'altro Ho piegato la testa Mi sono schioppato I porco Dio De occhiali Cioè Si sono levati Tutte e due Le stecchette Ma io a questo punto Li metto così Ah ma sei gottissimo Sei tipo Morpheus Vabbè Stanno so uguale Sei tipo Morpheus Ma tanto Se faccio così E cadono comunque Le stecchette Che cazzo Te l'avete montate a fare Infatti mi sembrano Fragili Porco Dio Ma l'hai visti Come abbassavo La testa Cascano Ma gli occhiali assurdi Cioè Mi si sono smolecolati Sulla postazione Un elastico Come si fa Ma perché stiamo ancora A questa foto Ma la mamma rimessa Io vado proteggere dai raggi Io è per i raggi No Gli occhiali Sì per le luci Ma io vorrei averli Ma non ce l'ho Gli ho scordati Da qualche parte David Rubino Completano il quartetto Del Cerbero Podcast Mister Flame Uno youtuber romano Si è distinto Per le sue critiche Ai videoprank E per l'utilizzo Di una maschera Che separa la sua vita online Da quella privata Bei tempi Mai criticato nessuno Io li prendevo Per il culo Semplicemente Videocritica Sta roba è qua Che ancora La critica Non Il fatto della maschera A vita privata Che ha detto E lo contraddistingueva Il fatto che aveva Una maschera Che separava La sua vita privata Da quella pubblica Vabbè verissimo Ed io ho detto Bei tempi Punto di domanda Ma alla fine no Ma riesco pure adesso L'unica cosa che è cambiata È che sono riconoscibile In giro Ma in realtà Non cambi nulla Mettiamola così Perché secondo me Tante c'hanno anche Il fetish della maschera Vero c'era 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 T'hanno mai scritto Negli anni Za anni Tipo Vorrei trombarti Con la maschera Quello Ti devo dire Molto 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 raro Però il fatto Che metteva curiosità La maschera Quello là si Ma sembra che C'hanno vita proprio Sono schizzati via Come è possibile Sei un funambolo Come fai Ommaggio Beccate la Flames Ma sai Non ho mai trombato Con la maschera Ho trombato Solo una volta Che aveva la maschera In realtà Ma hai detto Beccate sta Flames Sta arrivando Il dono della Flames Assolutamente no Assolutamente no Però mi hai fatto Venire in mente Una cosa che mi era successo Quando in terrenata Feci la move Con una americana Charm & Shake Che non sapendo Come dire in inglese Si faceva I'm coming I'm coming E' giusto Gli urrei I'm coming Perché volevi avvertire Per carineria Stava sopra Capito Non è che volevo I'm coming I'm coming I'm coming Oggi l'ho lanciati al volo Mentre cadevano Non so se te ne riesco conto Oggi Fa vedere che faccio così E me cascavano Ma erano ancora intatti Mentre cadevano Li ho aggrappati E li ho tirati così E adesso sono smolecolati Completamente No la cosa divertente È che se li riacchiappi al volo Tutte le volte Sembra che te li vuoi levare Volontariamente Tipo così Allora ragazzi Tipo così Allora Tutti i trick Prima però Era più involontario Era molto più fluido Sì perché Cascavano Ensa la mia volontà Per quello Fate un rallentire Poi lo mettetelo su Se cascano spontaneamente Fa ride Se devo essere io Che devo fare così Ogni tanto Eppure cringe Cioè tu ovviamente Hai detto cotta Perché ormai È tipo rumore bianco Tu mi hai detto cotta Non me ne so Ne manca cotto Pensate Non me lo so cotto Zanni Non me ne vengono in mente altri Ma come mai tutta questa consapevolezza Ce ne abbiamo di più Ma che cazzo Ho fumato Un po' Perché cotta Zanni Ce ne abbiamo un po' Greve No ce ne sta qualcun altro Complimenti Greve non mi dà fastidio Perché ripeto È colloquiale Non è una cosa specifica Capito Però questo è un problema Toledo 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 Faride Perché Sambucone Molinare Ma la cosa più greve Ma la cosa più greve A me Cioè a una certa Mi ero per cazzo A dirlo Sono il primo Ma io l'ho sempre fatto Questo discorso Magari è una cosa mia Specifica A me non mi piacciono Queste cose ripetute all'infinito Io salgo sempre a bordo Quando tu dai unici Io salgo Tutta Capito Te invece Tu sei più critico Ma diciamo Lo fanno per triggerarmi Cosa Facciamo cosa Cosa No No Te prego La sento male No Andiamo avanti Poche persone Sanno della parentela Con la famosa Alicia Griffanti Alias La diva del tubo Scusate Si è sentito Di una maschera Che separa la sua vita online Da quella privata Poche persone Sanno della parentela Con la famosa Alicia Griffanti Alias La diva del tubo Che tocca Che devo dire Vero Pochi sanno che In realtà Ahimè Purtroppo E' risaputo Ormai Perché essendo vecchio E' un dato sensibile Comunque Poi sembra che uno E' di parte Non mi frega un cazzo Cioè Questo fatto Della parentela Non ha in alcun modo Influenzato La tua carriera Su internet No No Che deve Papà c'ha un po' il dente Avvelenato Con Andrea Di Pre Però penso che Lo hanno visto tutti Anche se ormai no Però i tempi Za anni Ecco Mannaggia I scontri accesi Con l'assa Brigamer Sono diventati virali Caratterizzati da critiche E polemiche Senza filtro Flame Porta al gruppo Autenticità e simpatia Con la capacità Di scherzare E criticare Gli ospiti Senza remore David Rubino E' il nuovo ingresso Nel Cerbero Podcast Sostituendo i membri Durante i loro periodi Di riposo Grande Io e Marco Non pervenuti Ma come? Scusa L'unica cosa Che non corrisponde Con te È il nome iniziale Ma per il resto Ha descritto te Quindi presumo Che David Rubino Ricordi Logica Sei tu Sono diventato io Adesso Sentiamo se la descrizione È quella giusta L'ha detto Sei David Rubino Qualcosa All'epoca E criticare gli ospiti Senza remore David Rubino Il nuovo ingresso Nel Cerbero Podcast Sostituendo i membri Durante i loro periodi Di riposo La sua esperienza Su YouTube Si è sviluppata Parallelamente A quella di Flame Con format simili E un approccio critico A tematiche attuali E notizie di cronaca Quello che facevi vedere Format tuo prima Eccola Benvenuti in questa Squalification Ah è vero E da Marco E mettimi il coso Dai Squalification Ma che coso Devi mettere il coso I fulmini Le saette I fulmini Undertaker Per dieci anni Proviamo con quello Dai In questa nuova Squalification Oh Ci sta Ci sta Mi è piaciuto Bello Pensavo che volevi un effetto Spiaciuto Quindi non capivo Di che mondo L'ho più Vabbè Ci voleva pure la cosa Il blu Bello Comunque Bello Eh sì Mi ricordo Quel tuo format Vedi Hanno infuso Nuova linfa vitale Nel progetto Eh Quello che hai fatto tu Linfa vitale No linfa vitale Chiamiamola così Ho sborato Un po' più poetico Del gruppo Insieme Questi quattro personaggi Hanno creato Un mix esplosivo Di conoscenze Passioni e dinamiche Che ha reso il Cerbero Podcast Un faro nello streaming italiano Che crea un vibratore Mi sta a chiamarmi madre Ma lo sa che sto in live No? Beh magari è urgente Senti un attimo Pronto? Pronto? Dove stai? Sto in live Ma è urgente? Dilo che stai Con il tuo voce Ah Senti No Ti volevo dire Forse dopo vado a casa Te lascio un gattò Dentro al frigorifero Dentro al forno No Piwi no No Come il gatto Dentro al forno No No Sì Capito? Che lasci il gatto Gattò No il gatto Eh? Eh? Te lascio il gattò No Tanto carino Il gattò di patate Eh Ah Buono Ma te l'avevo pure mangiato una volta Mi ricordo Ma è un frigo No Quando stavamo in quarantena Gianna Lo ricordo Era molto buono il gatto a patate Il gatto con le patate Eh te lo ricordi Come no Il gatto con le patate Te l'avevamo mangiato al forno Cotto? Eh sì sì Io ho fatto quella a Simone Grazie Ma pensavo che era vivo Ce ceno dopo Grazie Meno male Va bene Dopo te lo porto Grazie Ciao 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 Zanni Ciao Ciao Ma Ma che so Ma che so Non ha percepito Stava a parlare con i padri Stava a parlare con i padri Che meme mio figlio Ha visto Ha visto eh Che bei meme E niente Cose a caso Vabbè Questo era Ci hai definito un faro Tipo nel web Mi sono preoccupato per un attimo Per il povero Piu Eh no Infatti il gatto in forno No però Mia madre Il gatto di patate Lo chiama il gatto Dice il gatto La suggerirei per il ruolo di gatto Di gatto Vero I personaggi hanno creato un mix esplosivo di conoscenze Passioni e dinamiche Che ha reso il Cerbero Podcast un faro nello streaming italiano La loro alchimia è il segreto di un successo senza precedenti E l'ammirazione dei fan continua a crescere Mentre il gruppo continua a sorprendere con le loro dirette coinvolgenti e frizzanti Esatto E con i meme sfolgoranti Ma sì con dei meme proprio Za anni Bellissimo questo video Avrei voluto che non finisse mai L'ho visto bello preso eh Greve Sì E dico Andiamo nel vivo del titolo della nostra trasmissione Dove? C'è il gancio qua no? Ok con? E visto che abbiamo detto il faro del web C'è il proprio podcast Luca Yurman E dove sta? Sta all'inizio Ok Yurman C'è stato un comunicato ufficiale Della redazione Se sono arrabbiati Della produzione di Amici Se sono un po' inalberati Vediamo Amici ufficiale Roma 4 gennaio 24 Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali è cosa più che normale Beh è chiaro Uno discute di quello che è successo ad Amici Che se ne parli Zoom un po' eh E che cazzo Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma Perché non corrisponde al suo gusto personale Succede e va accettato come tutte le critiche Però c'è un limite È da un mese o più che un ex coach di canto di Amici Luca Yurman cerca disperatamente visibilità Infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte Ma chi l'ha scritto questo? L'ha scritto proprio la redazione di Amici Non sanno bene l'italiano Dal 2018 e fino a una manciata di mesi fa Ha telefonato decine e decine di volte Ha mandato tanti messaggi Ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici Mi spiace dirlo però è greve sta cosa Perché adesso sembra che uno lo dice apposta Certo Poi lui è stato pure ospite qua da noi Io non c'ero no? Ma ne ha parlato di criticità particolari E si ricollegano le cose oppure sembrano Assolutamente sì E mo voglio finire di leggere Questo approccio grembaudesco nel senso che loro adesso dichiarano per difendersi dalle sue critiche Che lui gli abbia scritto, telefonato decine di volte per tornare a far parte della cosa Vogliono far passare l'immagine che lui stia sputando nel piatto dove ha mangiato Anzi addirittura ci vuole ritornare a quel banchetto Tipo la volpe e l'uva Sì quindi in quanto Rosicona come volpe e l'uva Fa queste cose per cercare visibilità Sarebbe quasi una diffamazione in caso Lo è Mi sembra una visione abbastanza stretta della realtà Basta seguire insomma un discorso suo Anche di vedere la live nostra Però appunto vorrei finire È venuto di persona negli uffici della società a Roma Per proporsi e per Secondo lui Dimostrare quanto si fosse sbagliato Andandosene all'epoca in cui decise di fare un colpo di scena Verso la fine di una puntata del serale All'epoca in diretta Si alzò e Guarda caso con sotto la sedia Già il cappotto e la sua borsa Disse appunto in diretta che riteneva terminato il suo lavoro ad amici Aveva perso la sua ultima allieva Vabbè questa è Ne abbiamo parlato la sua grande uscita Ha detto lui stesso che l'aveva preparata lui Se non voleva andare in maniera sensazionale Nei giorni successivi Certo è spettacolo Quello per cui era pagato Si lamentano nella relazione di un programma Di uno che ha fatto spettacolo Mi ricorda Morgan Nei giorni successivi Cerco in ogni modo di tornare sui suoi passi Ma ritenemmo che forse è sufficiente Chiudere il rapporto lì E con tanta buona educazione Gli dicemmo che poteva serenamente Ritenersi libero anche dal contratto Che lo avrebbe invece impegnato Per qualche altra settimana Ognuno è giustamente libero Di fare le proprie scelte E la scelta di avere Yurman tra i coach Era già stata messa in discussione Più e più volte dalla produzione Perché i suoi metodi Parevano per una serie di ragioni Poco limpidi E poco funzionali Alla vita artistica degli allievi Questa è una brutta frase cosa Poco limpidi Perché vuol dire tutto e niente Ma lascia immaginare il peggio Certo Che vuol dire? Non significa qualcosa in particolare No, infatti È poco limpida La definizione stessa Di poco limpido Si dice Sì, hai ragione Però fa pensare a cose brutte Sì Suona molto male Un professore poco limpido È l'antiprofessore È un professore È totalmente incapace Quindi insomma Invece No, aspetta Non è arrivato lì Poco limpidi Poco funzionali La via artistica Ok Le strade si dividono Con buona pace di tutti Di solito Invece Nel suo caso Come appare dai social Dove quasi quotidianamente Esterna Fandonie Pare che non potendo arrivare Là dove espressamente Direttamente Personalmente Ha richiesto di tornare Lo abbia portato A infangare Svilire Denigrare La sua ambita meta Non la riaccettate Non mi riaccettate Allora vi sputo addosso La volpe lui Vabbè l'ha proprio scritto Se non fosse Non era abbastanza chiaro Insomma E ecco Ma poi chi l'ha scritto Sto articolo La parola di Gesù Ragazzi È scritto in maniera Insinuissima Parola di Gesù Ecco Questo è Jürman Ecco Virgola Ecco Questo è Jürman E questo sarebbe tutto Comunicato stampa Se non fosse Che lui oggi Stia lì Pervicacemente A negare Di aver chiesto Di tornare A negare Sfacciatamente Di aver proposto Se stesso Come giudice Cazzuto Ma questo è un ruolo Non una santa Uno può anche proporsi Di far sta cosa E non significa Che è una volpe Che non arriva a lui Significa che uno Che sa come poter fare Un programma di successo Comunque che vuole dare La sua idea Anche Morgan lo fece Con il fatto Disse Guarda ci vorrei io Così Da un punto di vista Differente È chiaro È chiaro Che se chiamano Un tizio Ad un programma Lo chiamano Per soddisfare un ruolo Fin dall'inizio Era così Poi ha maggior ragione Se uno l'ha già ricoperto Quindi Sa anche Che può farlo Che l'ha fatto Eccetera Eccetera Una cosa in più Rega che stiamo leggendo Adesso mi reputo bravo Mi propongono Stiamo leggendo Un comunicato stampa Di amici Dove Officialmente Parlano Di Luca Jurman Che Lo paragonano Alla volpe all'uva Poi se Scusa Se devi seguire Una live del Cerbero Devi aprirla Fin dall'inizio Se no non rompere i coglioni Ma secondo me Era una roba Del tipo Ma che stiamo leggendo Era quella Ah ok Interessante Però sta cosa qua Volevo insultare qualcuno In chat Dai De lui che si è riproposto Anni Complimenti De lui che si è riproposto Secondo loro Però Lui dice che non è vero Pilipu 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 Mi piace questa dissagrazione Dei membri del Cerbero Oggi Cotta Guarda che fa bene È come lo show Che se pia per culo Da solo Cioè quella puntata In cui è Più self aware E porco 2 Se pia per culo È meta teatro Poi sì Meta streamings Pilipu 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 Il cuore di un soldato Il cuore di un soldato Il cuore di un soldato Il cuore Crucial Eh Il Wendigo E te con quel cappello? Ah ci stai Vabbè Un bello applauso Un applauso a tutti voi ragazzi Complimenti Una fattuale Fattuale ragazzi È cotta Eppure Davide Bella E che vediamo Vabbè dobbiamo finire Giudice Cazzuto Ora non siamo in un tribunale E non si possono sbandierare i messaggi Inviati di testo e di audio C'è pure la parabolata Io volevo andare a parlare lì Grazie Grazie per il sub Grazie Se vuole entra Magari Eh parliamo di questa ghost Ci auguriamo Ah no Ma quei messaggi ci sono E lui lo sa Quindi Noi siamo tanto pazienti Ma perché insistere? Ci auguriamo che con la stessa disinvoltura Con la quale pontifica E a volte anche un po' senza senso sui social Voglia banalmente chiuderla qui E girare pagina Con rispetto per tutti Anche per chi non ce l'ha per noi Parola di Gesù Produttore esecutivo Di Amici Amen Qui ce ne manco il nome e cognome Quindi loro vogliono essenzialmente Che Luca Yurman Smetta di parlare di Amici Si è scritto con i piedi Davide Sono d'accordissimo Infatti L'italiano Un po' scadente Vogliono che lui non parli più di Amici Vogliono Zittirlo Chissà perché Perché forse dice cose un po' scomodine Eh Dice cose scomode Vere Di una persona informata Di un professionista E Ridurlo a L'uovo Olpe L'uva È proprio quella persona Che non Cioè persona È proprio Quella cosa Cioè quell'ente Che non sa accettare Che ci sta una voce Diciamo fuori dal coro Che in realtà Cioè Mi ricorda pure magari Me con YouTube Fa cagare Ok Non è che se rompi il cazzo per una cosa Eh Significa che la odi E la disprezzi E se la volpe l'uva Anzi Magari Criticare tanto una cosa E spenderci così tanto pensiero E così tanta Tanto tempo Significa che L'apprezzi Che la ami Che ti piace Se analizzi Se parli tanto sempre di una cosa No Evidentemente lui Con la storia che ha avuto Ovviamente Ci saranno stati alti e bassi Dei momenti in cui Gli piaceva stare lì Dei momenti in cui Odiava stare lì Ma al centro c'era sempre Il suo amore per la musica E presumo per la didattica Amor ricordandomi pure un po' la live No Quindi ridurlo a Questa cosa qui È uno sminuimento Come si fa ormai adesso Sui social Per tentare di contenere E di Salvare la faccia Ma è anche un gioco facile No Perché dicono Abbiamo queste cose Ma non possiamo farle vedere Però lui non è che può dimostrare Che non ha mai scritto Che non è mai andato Dovrebbero essere loro Se fanno l'insinuata Mettendo una cosa Come dice Jürgen Che è falsa Dovrebbero dimostrarlo loro E far capire che è vero È ovvio che Luca Apri Discord E Luca Se vuoi Entra su Discord Ora Se vuoi e se puoi E parliamo di questa cosa Se non puoi Scrivicelo in chat Insomma Così facciamo altro È ovvio che lui Negli ultimi Cioè da quando Si è messo sui social Ha messo Parecchio al centro Delle sue produzioni audiovisive Una critica Efferata Nei confronti Di una trasmissione Ma io direi Anche grazie al cazzo Nel senso Un ambiente che lui conosce bene Da insider E se a un certo punto Tu arrivi a quel punto La tua vita Dici io ho la mia carriera Ho le mie cose E voglio scoprire un po' D'altarini Anche se so Che ne andrò a perdere D'immagine Ne rischierò Sì anche perché Molti potrebbero dire Ma vedi Sputino il piatto domani Oppure perché Te potrebbe arrivare A critica dall'altra parte Se lo fai Cosciente Dei rischi che prendi Vuol dire che Evidentemente hai un'urgenza Di dire qualcosa Esatto È lo stesso discorso Anche per Morgan Cioè lui alla fine Non è che Lo sa che Fa comunque Una figura De merda Che passerà Comunque per la testa De cazzo Ma in lui ci vedo Ovviamente da sempre Un amore di fondo Per la musica La stessa cosa Un po' di romanticismo Sì ovviamente Non è che sono la stessa Persona Però è un parallelismo No nel senso No nel senso che Tipo Morgan Si vede L'amore della musica È in dubbio Però quando Lui fa critiche Spara abbastanza Nel mucchio Lo vedo molto Ego riferito Ultimamente sì Mentre Luca Parla nel merito Cioè Non è che dice Ah Stava la smissione De merda Ero meglio io No lui dice Guarda È successa questa cosa Qua dicono Che questo cantava Completamente Senza nessun effetto Io vi dico Qua Sentite Qua c'è il compressore Qua c'è l'autotune Non è che dice Che critica il fatto Che non c'è lui Morgan si è imbumerito Tantissimo E Utilizza troppo I suoi idoli E i suoi I suoi maestri Come legge totale Insomma Riporta tutto Alla sua esperienza E non va bene Invece hai ragione Juhlman No Non fa così Un pochino più specifico Poi Raga ovviamente È più didatta anche Cioè può sta pure Che in decine di video A qualcuno ogni tanto Gli è parta la ciabatta Che magari In una live Dici Vai leggermente più lungo Perché Che ne so Te senti punto nel vivo Da una cosa Quello è normalità A noi c'è successo Decine di volte Ma il discorso Che stava a favore Simone prima Vi faccio un altro esempio È come il calciatore Che va tutti i giorni Cioè il calciatore Il tifoso Che va tutte le domeniche O stadio Che magari gli basta Però comunque Ama la squadra Ama Ama Capito Tutto qua Tutto quel pigno di emozioni Però magari augura la morte A qualcuno Che sbaglia il rigore Capisci il tuo io di Arcapitano Però c'è l'ha tatuato un petto Però magari dici Magari mori te Ilar e tutta la tua famiglia Però magari c'è l'ha tatuaggio qua L'esempio più calzante Che mi viene in mente È questo Quando hai passione per qualcosa Ti incazzi anche Perché non è che hai solo amore C'hai un turbinio di emozioni Presumo Sì ma poi è utile Che qualcuno Dica le cose Che sono leggermente Più scomode Perché tanto Non è che fai crollare un sistema Il sistema è ben radicato Però se nessuno Si prende mai la briga Di dirti Guarda ok Tutto bello Funziona così Il mercato Però ci stanno Queste piccole criticità Ogni tanto Da moglie un'occhiata E anche se ti piace San Giovanni Se ti piace Manzoni Red de Roma Quello che te pare a te Alla fine Prenditi conto Che ti sta piacendo Per una serie di motivi Fra cui c'è anche Tutto l'artificio Che c'è intorno Ma non mi sembra Che sia qualcosa Per cui crocifiggere qualcuno Anche perché tanto Va nel vuoto Sveglia dieci menti E gli altri Rimangono nello status quo Sono perfettamente D'accordo con lei No da oggi Zanni Zanni Marco che è entrato Infatti stavo pure pensando Ero pure un po' distratto Dico la verità No Va bene Ok Intanto magari andiamo avanti Assolutamente sì Allora c'è stata una sua risposta Vediamo Allora vediamo Sì sì c'era pure la cosa di Morgan Ho visto C'era una risposta di Morgan Addirittura ho visto anche un video A riguardo Ce l'ho già aperto Questa è la risposta Di Luca Jurman Ecco quello che succede Quando si cerca di prendere Le parti del talento E ci si batte Per la meritocrazia Se sono arrivati a questo punto Significa che stiamo Facendo la cosa giusta E spero che cambi Il loro modo superandi Non so affatto Chi sia Parola di Gesù E non la conosco E state tranquilli Che io ad amici Non ci torno E non tornerò mai Infine non mi preoccupate Nei prossimi giorni Uscirò a un bel video Risposta Ok Ce sta Vorrei vedere Come ci sta Guarda un attimo No ce sta Che faccia il video Gli hanno fatto una cosa Dedicata a lui Firmata come Gesù Quello che ha scritto O chi ha scritto Perché magari pure più Persone Quella roba Neanche ha avuto La decenza Deve metterci alla firma Sì anche meno Nell'altro posto Perché l'ha postato due volte Lui sta risposta Parola di Gesù Poi che ha scritto Un commento un po' lunghino Guarda un attimo Ma la cosa che mi fa sorridere È che questo è un commento Nella nostra chat Cosa che mi fa sorridere È che Il modo che usano Sempre i media importanti Per mettere a tacere E Usare le Sordide minacce Eh si è chiuso Scusa che non ci vedo Ok Sordide minacce Purtroppo hanno sbagliato persona Se porti alla luce un problema Si uniscono tutti Per affossarti Su sta cosa sto d'accordo Suonava un po' come minaccetta Nel senso Io spero che mo' Ce lascerei perdere Sennò guarda che le conversazioni Ce stanno Che vuol dire Che le fai vedere Sì no infatti Senza autorizzazione È passivo-aggressivo Un bel po' minaccioso Passivo-aggressivo E Pure qua Magari non era Instagram Era Facebook È stata da qualche parte Perché Morgan So che commenta una cifra su Instagram Fatto un commento Perché io l'ho messo nei link Se ti vuoi collegare Sta nei link Altrimenti c'è pure un video Che lui ha fatto È uscito un giorno fa Quindi penso che sia abbastanza attuale Tanto apri il video Allora apro Cosa? Tanto si può sentire Morgan contro Amici È tipo uno degli ultimi qua Ma come? A dove? Ah Ho già aperto prima Sfirmata da Gesù Morgan contro Amici E Maria De Filippi Ad Amici c'è stata una cosa gravissima Ma è iniziato ad Amici Quando io ho fatto Amici Che io sono stato Proprio messo in discussione Nella cosa che io so fare meglio di tutti Che è Io ero il coach Fare il direttore artistico di una squadra Scegliere i brani Capire la direzione Dove devono Qual è una roba Che nessuno sa fare come me E loro hanno detto Mi è stato Mi ha screditato Nella mia forza Guarda che quando tu vuoi colpire una persona Ti devi colpire il centro produttivo Forte Cioè il suo centro Le brani Ma è rimasto umile Morgan L'importante è quello Comunque secondo me Lui si è montato la testa Perché da quando ha iniziato a dire No è che no Lui si è montato la testa Da quando ha iniziato a dire Che ha vinto il fitness Dei primati Come miglior giudice In X Factor Al mondo E sti cazzi Ma davvero ha vinto un Guinness Dei primati? Non è che ha vinto Un Guinness Aveva comunque il record Di quello che ha vinto più Edizioni al mondo Comunque E quindi Sono il migliore Sono il migliore Sono il migliore Ma se passi la vita Addiso al migliore Poi diventi un coiore Secondo me Un coiore Un coiore Ma dico Ma hai visto la cosa Ti dicevo prima Qui qua stava In diretta da Luca A parlare della teatriba Fa amici E Luca E senti Cioè il testo Del suo discorso Eh infatti Io perché io Sì sempre io Ma chi ti ha detto Questa cosa? Io dentro Lei L'innominabile Grazie Per le 10 Grazie Un bacione Top Top A schermo Grazie per le sub Il cuore di un soldato Il cuore di un soldato Il cuore di un soldato Night Rider Ti ricordi come faceva la canzone Night Rider I wanna ride the night Ride night Ride night Ride night Ride night Che padre I wanna ride I wanna Night The ride Vabbè 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 E già c'hai Un ritornello C'hai qua quattro Ale l'hai inventato adesso Vabbè Direi Eh ma sembrava Fastica Allora È carino L'ultimo puntata via Lei Mi dice In riunione Lei Facciamo così Morgan Il pubblico È contro di te Tu Fingi Una specie di incazzatura Esci Te ne vai E io Parlerò di te In modo tale Che il pubblico Andrà tutto dalla tua parte E io Ma guarda Non ho voglia di fare Questa scenetta Tranquillo Avete capito? Cioè comunque È una cosa che si fa Hai capito? Ah quindi Qualcuno stava sentendo Certo Sto anche pensando Analizzando E trovando cose simili Che magari sono già accadute Mi stavo a sforzare A far quello Con la mia testa A trovare Momenti Infatti invito pure la chat A farlo Dove sia già accaduta Una cosa del genere È una cosa fatta proprio A tavolino A tavolino Per riabilitare L'immagine di uno E farlo passare come Poverino È in grande però È forte Le operazioni simpatie Non fischiatelo È in grande Sono operazioni simpatie Che si fanno Per rivampare Un personaggio Ma banalmente Ma neanche Cioè pure Se se lo meritano Tra virgolette A prescindere La cosa fatta a tavolino Non spontanea Perché c'è posta Che uno si alza E se ne va E magari a qualcuno Gli veda di delle parole In supporto È una cosa che può accadere Io intendo Quando si sa Che è accaduto Oppure quando Se qualcuno Crede che sia accaduto A tavolino Sì sì È uno scenario Probabile Sto immaginando La timeline In cui a Morgan Per stormare out Per far una scenata E andarsene così Sbattendo la porta Gli serve che uno Gli lo dice prima Qual è questa timeline Non siamo in quella No ho capito Cioè Nel senso Lei ha detto Che Maria Filippi Ha detto lei Penso sia lei No Non credo Zite Vabbè La parola di Gesù No 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 La parola di Che squali State arrivando Ma che era Ah no aspetta Rifacciamolo Ce l'hai già pronto Guarditino Vai sì Lui ha detto che Maria De Filippi Eh vabbè 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 Ma così No No io ho sbagliato Ho sbagliato tasto Non me la sento Dai vai Rifamo Devi premere un po' Leggermente prima Sì Capito Vai Lui ha detto che Maria De Filippi No scusa Eh scusa vai Vai rifacciamo Lui ha detto che Sempre quella Maria De Filippi Maria De Filippi Che cazzo Ehi Night Rider Grazie mille A quanto vuole piace Sta cazzata Night Rider Grazie mille Grazie mille Grazie mille Bello così Bello così Eh perché Quello sarebbe Il suono Anomato Un pugno Tipo nel cinema E lui è come se Avesse preso il pugno Invisibile Che squali Stati arriva Ello Croccian! Questa nuova attenzione! Vado a partire il spedreno Vado a partire Vado a partire il spedreno Vado a partire il spedio del guard Vado a partire il spedio del guard Sembra assurdo! State pure registrando!